Scommesse KNWB Becker, il Twente gioca i quarti contro l'Ajax. Anche in Olanda come in tanti altri paesi europei è giunto il momento di giocare in Coppa. Gli ottavi di finale della KNWB Becker mettono a confronto il Twente e l'Ajax. Per i lanceri questo è un esame veramente importante. Per l'11 di Amsterdam centrare la terza vittoria consecutiva, Brian Brobey e soci sono reduci dal doppio successo ottenuto in campionato contro l'Excelsior Elkambur, vorrebbe dire mettersi alle spalle un periodo piuttosto complicato. Iniziato l'8 gennaio 2023 con il pareggio ottenuto sul campo del Nîmgen e proseguito fino al 26 gennaio con il punto conquistato in casa contro il modesto Volendam, nel mezzo altri due pareggi nelle divisie contro Twente e Feyenoord e il successo di Coppa contro il Dembosch. Fai ora i tuoi pronostici le quote pendono dalla parte dei lanceri Aldegrolsk Vest scatta quindi l'operazione riscatto dell'Ajax. I lanceri partono favoriti a 1,98 mentre la combo x2 più over 1,5 è offerta mediamente a 1,55. Il Twente, 8 vittorie e 2 pareggi nelle prime 10 gare interne di campionato, però può senza dubbio riuscire a creare qualche grattacapo alla difesa avversaria. Il gol vale 1,56, virgola.